L'ufficialità è realtà, Conte nuovo tecnico del Napoli. Di seguito la nota del club, SSC Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l'incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli, afferma il presidente Aurelio de Laurentiis. Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa, farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale, ha affermato Antonio Conte.